Gianfranco Stefanin Gianfranco Stefanin Il mostro di terrazzo luogo omicidi Italia periodo omicidi 1993-1994 numero vittime 6 più modus operandi violentava e faceva a pezzi alcune delle sue vittime catture e provvedu un menti Ergastolo anche il bel paese ha le sue storie di serial killer se possiamo tranquillamente dire che Donato Bilancia è l'omicida seriale nostrano più prolifico allora Gianfranco Stefanin è sicuramente il più pervertito un maniaco sessuale, il re dei feticisti e il Landru delle bassa, come piace chiamarlo ai giornali dell'epoca a Stefanin piace il sesso estremo, gli piacciono il bondage e il fetish purtroppo, non sempre le sue compagnie occasionali riescono a uscire vive dal rapporto sessuale Gianfranco Stefanin nasce il 21 ottobre 1960 a Montagnana, un piccolo paesino in provincia di Padova i suoi genitori sono Giuseppe Stefanin e Noemi Miola, due proprietari terrieri, che vivono della reddita dei propri terreni non comprano nemmeno da mangiare, ci pensa Giuseppe Stefanin a uccidere i bestiame Gianfranco si rifiuterà sempre di aiutarlo, perché prova ribrezzo ad uccidere e a sventrare gli animali quando il piccolo Stefanin ha 5 anni, è costretto ad entrare in un collegio di preti per un anno sua madre ha in corso una gravidanza molto difficile, che infatti sfocerà poi in aborto, e la coppia non può badare anche al figlioletto tornato a casa, Stefanin comincia a dare una mano nei campi, ma rimane presto vittima di uno stupidissimo incidente scivola nel fango e, nella caduta, sbatte la testa contro un attrezzo agricolo l'incidente non gli costerà solo i 4 punti di sutura i genitori iperprotettivi di Gianfranco decidono infatti di chiuderlo in un collegio di suore evitando così che il loro ragazzo si faccia nuovamente del male nei campi nel collegio Stefanin passa gli anni degli elementari, gli anni delle medie e i primi due anni delle superiori gli vengono a mancare le figure dei genitori e comincerà a fare affidamento solamente su se stesso ha 13 anni anche la sua prima esperienza sessuale viene usato da una 24enne sposata e insoddisfatta, ma Gianfranco non si oppone Stefanin torna a casa nel 1975, ha 15 anni evidentemente non è un ragazzo molto fortunato, perché nemmeno un anno dopo, il 21 novembre 1976 la sua vita ha un'ulteriore svolta negativa Gianfranco, che va pazzo per le motociclette e il motocross, cade dalla moto e si procura un grave trauma cranico finisce in coma per un paio di settimane e, dopo un mese, deve subire un intervento chirurgico molto delicato uscirà dal policlinico di Verona a gennaio, l'incidente gli ha decisamente cambiato la vita oltre ad aver perso molti amici, il trauma cranico gli ha lasciato in eredità un focolaio epilettico e, 5 anni dopo, gli verrà una meningite batterica da infezione non sono le uniche conseguenze, Gianfranco Stefanin ha anche dei cambiamenti comportamentali sia nella sfera sessuale che nei rapporti con gli altri, un lento ma evidente mutamento del carattere osservato da tutti parenti, amici, fidanzata è costretto inoltre ad abbandonare gli studi, perché non riesce a stare concentrato troppo a lungo, gli viene l'emicrania il suo rapporto con il sesso è molto strano, va matto per la pornografia e gli piace fotografare le sue amiche nude o in pose o scene la prima fidanzata vera e propria, Donatella, viene obbligata per due anni a indossare mutandine o se comprate al mercato tra il 1978 e il 1983, Stefanin macchia in diverse occasioni la propria fedina penale simulazione di reato, fa finta di essere stato rapito e chiama i genitori per chiedere il rescatto violenza privata, finge di avere una pistola in tasca e obbliga una ragazza ad accompagnarlo ad una festa rapina, sempre fingendo di avere una pistola in tasca, obbliga una ragazza a dargli i suoi gioielli nel 1983, è responsabile di un incidente stradale, nel quale una ragazza perde la vita verrà condannato per omicidio colposo nel 1989, rapisce violenta una prostituta di Verona, Maria Luisa Mizzari questo suo ultimo crimine rimarrà ignoto per diversi anni, venendo allo scoperto solo in sede di processo quando Gianfranco Stefanin per l'Italia è già un mostro in mezzo a tutti questi crimini, Gianfranco conosce l'amore, quello vero, quello con la maiuscola un rapporto che durerà per 5 anni, tra l'80 e l'85, quando Stefanin ha tra i 20 e i 25 anni lei si chiama Maria Amelia ed è una sua coetanea Stefanin ha dei progetti di vita su questa ragazza, non si sente abbastanza grande per il matrimonio ma sente che è la donna giusta nel 1985, Maria però si ammala gravemente e gli iperprotettivi genitori di Gianfranco premono affinché lui smetta di frequentarla i rapporti con i suoi rischiano di deteriorarsi, perciò Stefanin li accontenta e molla Maria quando, dopo qualche tempo, ritornerà a cercarla, lei sia rifatta una vita sentimentale Stefanin ne soffrirà moltissimo dopo questa love story andata male, Gianfranco Stefanin non avrà altri rapporti sentimentali cambia anche la sua concezione delle donne, che diventano da buone a cattive e vengono considerate alla stregua di semplici tappabuchi con cui passare il tempo Gianfranco comincia a scoprire il sesso occasionale, quello di una notte comincia a frequentare le prostitute in giro per il Veneto, e comincia a sviluppare un profondo interesse per il sesso estremo nel giro di poco tempo, Stefanin trasforma il proprio casolare in una sorta di club prive a luci rosse con tanto videocassette, riviste porno, vibratori, mutandine di pizzo e reggi calze borchie e tutine di cuoio, cinghie e palline di varie dimensioni ad occhia preferibilmente le prostitute sulle strade di grande transito e le incanta spacciandosi ora per produttore tv, ora per agenti alla ricerca di top model, ora per fotografo, ora per campione di moto o pilota d'aereo gli è rimasta la passione per le foto, ne collezionerà ben 7000 che lo ritraggono con le sue compagnie occasionali soprattutto mentre fanno l'amore a volte si fa immortalare mentre gli prendono le misure 32 cm, come John Holmes, il divo porno suo grande idolo gli piace rasare le ragazze con le quali passa la notte perché ha un grande desiderio riuscire a realizzare un giorno un cuscino imbottito di peli pubici femminili lega le mani alla partner, oppure la obbliga a mettersi cappuccio a farsi imbavagliare spesso contorna il tutto con stupefacenti e sesso estremo non tutte le ragazze hanno la fortuna di uscirne vive una muore perché, durante il rapporto, Stefanin le stringe troppo forte il braccio intorno al collo un'altra morirà perché Stefanin vuole provare il bondage con un sacchetto di nylon in testa un'altra muore perché lui le stringe le mani intorno al collo mentre ha l'orgasmo questi intoppi non spaventano assolutamente il freddo e spietato serial killer veneto Gianfranco trasforma velocemente il suo club privé in un obitorio seziona i corpi, taglia gli arti e fa a pezzi il tronco le teste le rasa e le fa sparire, occulta il tutto nella campagna vicina la prima ragazza sparisce il 15 gennaio del 1994 è Claudia Puleio, 29 anni, tossicodipendente attirata nella villa con la promessa di 15 scatole di roipnol un potente farmaco per le crisi di astinenza in cambio, Stefanin chiede il permesso di scattarle alcune foto particolari a novembre dello stesso mese, risale invece la sua ultima vittima una prostituta austriaca, Gabriele Musger, che gli sarà fatale e la sera del 16 novembre 1994, siamo a Vicenza Stefanin ha avvicinato la prostituta austriaca e le ha chiesto quanto vuole per delle foto Gabriele Musger gli chiede un milione di lire ed esige che non le venga fotografato il volto ottenuta la promessa da Gianfranco, la prostituta sale a bordo della lanciadedra nel casolare dell'uomo, la povera Musger è sottoposta per ore a rapporti violenti giochi erotici estremi, ed è costretta a farsi scattare foto pornografiche Tenta anche di fuggire dalla finestra del bagno, ma la trova sicillata quando la ragazza rifiuta di farsi legare nuda al tavolo, di schiena, con gli occhi bendati per farsi scattare altre foto, Stefanin si infuria, la minaccia con una pistola e con un taglierino la prostituta ha paura, lo supplica, gli offre 25 milioni di lire per farsi liberare Stefanin accetta di buon grado, prima però esige un altro rapporto sessuale I due salgono quindi in macchina, diretti alla casa di Gabriele, dove sono i 25 milioni Al casello di Vicenza Ovest, mentre Gianfranco Stefanin è intento a pagare il pedaggio Gabriele Musger lo beffa, si lancia fuori dall'auto e corre in direzione di una pattuglia della polizia stradale La donna denuncia il proprio cliente per violenza sessuale e, poiché nell'auto viene rinvenuta una pistola giocattolo priva del tappo rosso, la polizia è costretta ad arrestare Gianfranco Stefanin Mentre Stefanin è infermo, suo padre muore per cancro polmonare Vengono inoltre compiuti i primi sopralluoghi presso la sua abitazione di Terrazzo, paesino in provincia di Verona Durante le perquisizioni, i carabinieri trovano diverso materiale incriminante, che viene immediatamente messo sotto sequestro Un taglierino, due pistole giocattolo, indumenti intimi, capi d'abbigliamento femminile, borsetti da donna ed i documenti di cinque ragazze Poi ancora, circa 150 contenitori di foto, per un totale di oltre 7000 fotografie, negativi non ancora sviluppati, decine di videocassette porno, una capigliatura bionda, contenitori con peli pubici, giornali pornografici, lettere ad amanti e fidanzate, santini ed immagini di libri sacri, soprattutto padre Pio, riviste, romanzi, enciclopedie di medicina, atlanti di anatomia, volumi sull'uso della macchina fotografica E, infine, le famose schede sulle prestazioni di alcune donne, che saranno fondamentali a collegarlo con le vittime Relativamente ai capelli e dai peli, Stevanin, in un primo momento, informa che sono di 3 o 4 donne, successivamente dice di averne rasate parecchie, non ricorda però il numero preciso I libri e le lettere saranno invece molto importanti per la costruzione del profilo psicologico del criminale Per la polizia, Gianfranco Stevanin non è ancora un serial killer, è semplicemente un pervertito che ha minacciato e violentato una prostituta austriaca a scopo di estorcerle 25 milioni Perciò viene condannato semplicemente a tre anni di carcere C'è però qualcosa che insospettisce gli inquirenti Tra i documenti e gli indumenti, rinvenuti durante le perquisizioni nella casa di Terrazzo, ci sono anche quelli appartenenti a Biliana Pavlovich, cameriera serba di 25 anni, residente ad Arzignano, Vicenza, della quale non si hanno notizie dall'agosto del 1994, e di Claudia Puleio, 29 anni, tossicodipendente di Legnano, Verona, che, come abbiamo già visto, risulta scomparsa il 15 gennaio dello stesso anno Le due ragazze figurano anche nelle schede delle prestazioni Stevanin dice che gli abiti sono un pegno d'amore che gli avrebbero lasciato le due ragazze, ma è davvero difficile immaginare che siano uscite dalla sua villa nude E per andare dove? Il 3 luglio 1995, sempre a Terrazzo, poco distante dalla casa di Stevanin, un agricoltore trova in un fosso, in disuso da tempo, un sacco contenente un cadavere È passato quasi un anno dall'arresto del perverso Gianfranco Stevanin e, grazie a un incredibile colpo di fortuna, è emersa la sua prima vittima Ci vorrà un altro anno prima che il killer confessi le sue colpe, ma intanto le indagini cominciano seriamente, condotte dai carabinieri e da un nuovo magistrato, Maria Grazia Omboni Tre giorni dopo il ritrovamento fortuito, Stevanin, adesso indagato per omicidio volontario ed occultamento di cadavere, viene trasferito nel carcere di massima sicurezza di Montorio, e a Terrazzo arrivano le ruspe 12 novembre 1995 Viene trovato il cadavere di una giovane donna, piegato in due, avvolto in un ampio telone blu del tipo usato in agricoltura, e sepolto ad un'ottantina di centimetri di profondità A differenza del 3 luglio, questa volta il ritrovamento non è casuale e, soprattutto, non è in un luogo qualsiasi Il cadavere è stato sotterrato proprio in un podere della famiglia di Gianfranco Stevanin Dopo gli esami del DNA e la ricostruzione del volto, viene appurato che si tratta di Viljana Pavlovich 1 dicembre 1995 Viene disseppellito il terzo e ultimo cadavere, sempre avvolto in un vozzolo di pellicola trasparente È Claudia Pulejo Nel giro di pochi mesi Gianfranco Stevanin è diventato da uno stupratore a essere il mostro di Terrazzo Gli omicidi contestati a Stevanin non sono solo i tre legati ai cadaveri ritrovati, bensì cinque, due dei quali sono solo supposti Tra le foto rinvenute durante le perquisizioni, è stata infatti riconosciuta lo suite Adalassinig, una prostituta austriaca scomparsa da tempo Mentre in un'altra foto si vede una donna, mai identificata, ritratta in una pratica erotica estrema e che, apparentemente, sembrerebbe essere priva di vita Comincia il braccio di ferro tra gli inquirenti e Gianfranco Stevanin L'uomo racconta delle cose, poi nega, ha dei vuoti di memoria e sembra confuso Solo in futuro scopriremo che è tutta una finzione per sembrare incapace di intendere e di volere, per farla franca alla giustizia Nel frattempo vengono predisposte anche le tre perizie d'obbligo per questi casi di processo Una d'ufficio, una della difesa e una dell'accusa Gli esperti si incontrano diverse volte con l'imputato Dialogano con lui della sua vita, di sua madre soprattutto, e alla fine tirano le loro conclusioni Per i periti dell'accusa e per quelli del tribunale, Gianfranco Stevanin è un individuo sano, abbastanza intelligente, cui 114, calcolatore Non soffre assolutamente di disturbi psicosomatici o del comportamento Sicuramente il rapporto con la madre iperprotettiva e le disavventure della sua vita lo hanno segnato in qualche modo È comunque in grado di intendere e di volere ed è perciò processabile Di idea completamente diversa sono i periti della difesa, che cercano di ricondurre tutti i problemi di Gianfranco a quel fatidico incidente in moto del 1976 Secondo la difesa, Stevanin, in seguito all'incidente, ha sofferto di una complessa sindrome psicopatologica su base organica di origine post-traumatica Ben dimostrabile sul piano strutturale e funzionale, esami TAC-RMN, che interessa entrambi i lobi frontali Il lobo temporale destro ed alcune strutture profonde del sistema limbico, sede degli istinti, dell'aggressività e della memoria In parole povere, per colpa dell'incidente Stevanin soffre di disturbi alla memoria e al comportamento, che lo rendono aggressivo e smemorato Tra il 19 luglio e il 23 agosto del 1996, a modo suo, Gianfranco Stevanin decide finalmente di confessare quattro delitti Quattro ragazze gli sono morte tra le braccia, tre durante rapporti sessuali spinti all'estremo, una, la puleio, per overdose da eroina Ci sono voluti tre interrogatori per delineare meglio la vicenda della terza vittima Sarebbe una studentessa universitaria, incontrata solo tre o quattro volte Stevanin spiega i delitti in maniera strana, come sogni, come lontani ricordi, come momenti in cui agiva senza sapere quello che stava facendo E liquida molti particolari con un freddo non ricordo Racconta, sotto forma di deduzioni o presunzioni, di aver sezionato il cadavere della studentessa, al fine di occultarlo Le avrebbe tagliato prima gli arti, le gambe, poi le braccia, ricavando due pezzi per ogni arto Ricorda vagamente che la ragazza era abbastanza giovane e con dei lunghi capelli biondi, ma del volto non ha nessun ricordo È sicuro anche di aver vomitato una volta durante il sezionamento, di aver visto molto sangue Afferma di avere come dei flash in cui si trova di notte sulla sponda di un ampio canale, in due punti, dove avrebbe potuto gettare i cadaveri Insomma Gianfranco Stevanin non è solo un perverso omicida, è anche un grande attore e la sua migliore interpretazione Questa sceneggiata allungherà a dismisura le indagini e il seguente processo, costringendo il tribunale a numerose perizie psichiatriche e ad ulteriori indagini Il cadavere di questa fantomatica studentessa non sarà mai rinvenuto né nel fiume né altrove Nel settembre del 1996, il mostro di Terrazzo si compica ulteriormente la vita La giornalista Alessandra Vaccari riceve cinque lettere con minacce di morte, scritte e inviate da Giuliano Baratella Un criminale dalla mente instabile che è compagno di cella di Gianfranco Stevanin Nelle lettere, Baratella si auto-accusa inoltre di essere il colpevole dei delitti ingiustamente attribuiti all'indagato Mentre il tribunale cerca di convincere Stevanin a confessare di aver scritto lui quelle lettere e di averle dettate a Baratella Il 24 settembre 1996, lungo le rive dell'Adige, viene ritrovato un altro cadavere Si tratta di una giovane donna sconosciuta, trovata priva di capelli e in avanzato stato di decomposizione L'identità resterà sconosciuta, ma anche questo cadavere finisce nell'inchiesta su Stevanin Il 6 ottobre 1997, dopo l'ennesima perizia psichiatrica che lo dichiara processabile, si apre finalmente il processo contro il mostro di Terrazzo Gianfranco Stevanin è accusato di cinque omicidi, aggravati di premeditazione e occultamento di cadavere Anche la madre di Gianfranco, Noemi Miola, verrà processata a parte Secondo gli inquirenti, la donna è da tempo al corrente dell'attività omicida di suo figlio, ma lo ha sempre protetto Pare addirittura che sia stata lei a far sparire una testa che il figlio aveva dimenticato nel granaio Stevanin si presenta in tribunale con la testa rasata a zero, per mettere bene in evidenza una cicatrice rimastagli dall'incidente motociclistico del 1976 Su quella cicatrice e su cui l'incidente si incentrerà tutta l'opera della difesa Come al solito, come solo in Italia può succedere, il processo si rivela lungo e laborioso, colmo di colpi di scena e sentenze che si ne danno a vicenda La prima sentenza, il 28 gennaio 1998, condanna Gianfranco Stevanin all'ergastolo, di cui tre anni da passare in totale isolamento diurno Successivamente, la Corte d'Assise, a sorpresa, assolve l'imputato perché incapace di intendere e di volere La sentenza definitiva arriva solo il 23 marzo 2001, la emette la Corte d'Appello di Venezia Viene confermato che Gianfranco Stevanin è in grado di intendere e di volere, perciò viene automaticamente confermata anche la prima sentenza, l'ergastolo Noemi Miola è stata invece assolta per mancanza di prove Attualmente, il mostro è rinchiuso nel supercarcere di Sulmona, l'Aquila, dove, nell'estate del 2004, ha salvato per ben due volte la vita al suo compagno di Cella, un aspirante suicida Prima lo ha liberato dalla corda alla quale si stava impiccando, poi gli ha impedito di ingerire delle pillole A noi rimangono i soliti dubbi Chi era Gianfranco Stevanini? Un pazzo perverso o un intelligente e freddo omicida? E quante sono state in realtà le sue vittime? Matto da legare? No, no, è la persona meno matta che mi sia capitata davanti Gran Narciso, persino intelligente, abilissimo nel presentarsi come vittima e carnefice Le sue stesse amnesie sugli omicidi erano autentiche simulazioni finché gli inquirenti non lo mettevano davanti a delle prove ed era costretto a confessare Uno dei periti psichiatrici che hanno dovuto analizzare Gianfranco Stevanini Elegante, raffinato, sempre con un accenno di quel buon profumo e perfettamente rasato In lui ed a lui ogni cosa è al suo posto, tutto in ordine E sempre con quella piccola perversione A lui la donna piace nature, in minigunna, senza slipre collante depilata In questo modo, infatti, il piacere inizia quando esco dalla porta di casa e termina solo quando rientro in casa Foglietto manoscritto intitolato Come mi vedo e consegnato da Gianfranco Stevanina I magistrati nel 1996 Scritto da Daniele Del Frate Trasformato in audiolibro dall'eresiarca Grazie per l'ascolto Grazie a tutti